Buongiorno telespettatori da casa, siamo qui riuniti per vedere la partita che vede schierate due squadre della classe quinta C Il commento è offerto da Matteo, lui è il telecronaco offerto da Luca Il Saracino prende palla mentre il Pisani ha un contrasto con Giacomo Passa Giacovelli che si libera sulla fascia sinistra Cross per Saracino, controllo di spalla Il Saracino, controllo di spalla Sul Pizzutino che tiene il possesso di palla Pizzutino, Pizzutino avanza, avanza Clemente intercetta, Clemente intercetta e solo contro Pizzutino, contro il portiere Tiro, gol Pizzutino, controllo di spalla 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 Il mezzo dell'azione Tiro, controllo di spalla Pizzutino, controllo di spalla Pizzutino, controllo di spalla C'è uno scontro tra Piuzzo e io No, no, tra Piuzzo e io E questa, questa va su YouTube Davo sto schivo, ne so hanno in bordo C'è uno scontro? I pray see you in heaven, far away I stay I pray see you in heaven But one day C'è uno scontro di me Ehm, tu hai sempre visto che mi finis I pray see you in heaven But one day U ciao I am odo di Cristo Amo dono di Brusto Caught in the middle of 105 The night was heavy and the air was alive But she couldn't find how to push through The night was heavy and the air 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 was Grazie a tutti. Grazie a tutti.